Musica Vieni a te, vieni a te, vieni a te, vieni a te 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 E di tagliare invece i soldi all'università, alle forze di studio, di toglierci qualsiasi garanzia sul lavoro, di renderci precarie e sempre più precarie. E quindi, dopo essere stati caricati numerose volte, ora dovrò dire... Maroni, ma che ci state a fare? Quest'anno non c'è niente da inaugurare! La 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 Grazie a tutti.